Non c'è niente di meglio che non sapere cosa ti aspetta in un videogioco. In realtà ci sono parecchie cose migliori, ma mi serviva una frase d'effetto per aprire il video e, comunque, è una sensazione niente male. Purtroppo, però, è anche una sensazione che possiamo provare non più di una volta per singolo videogioco. Ma se vi dicessi che, in qualche modo, possiamo riprovarla? Non al 100%, è chiaro, ma rimescolando tutto ciò che compone il nostro gioco preferito, saremo di fronte ad un'esperienza nuova durante la quale non sapremo cosa aspettarci. Ed è proprio ciò che ho fatto. Con questa mod ho randomizzato tutti gli oggetti e i nemici presenti in Dark Souls 3 e poi mi so... Questo è Mauro. Questa è la spada di Astora, ok. Abbiamo le stat per impugnarla, potenzialmente potevano anche esserci armi... Ti parecchio, scusa. Allora, potenzialmente potevano anche esserci armi. Allora, 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 randomizer è una delle migliori mod. Devo dire che sembra molto divertente, sono contento di portarvela. Rangula mamma. Mamma.